Piacenza e Parma sempre più vicine. Si tratta di una vera e propria alleanza per la crescita del territorio, quella nata tra Fondazione Cari Parma e Fondazione di Piacenza e Vigevano, che rientra dopo più di un decennio nel capitale di credito agricol Cari Parma e lo fa attraverso un accordo con la Fondazione Cari Parma. La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha acquisito infatti una partecipazione pari all'1,1% delle azioni della banca, direttamente da Fondazione Cari Parma. I soldi per l'operazione, circa 70 milioni di euro, arrivano dalla vendita di un pacchetto di azioni di cassa, depositi e prestiti di proprietà dell'ente di via Sant'Ufemia. Questa mattina la firma dell'accordo. L'ottica è di immaginare, di creare appunto alleanze con i vicini che hanno condiviso con noi la storia, ma che possono condividere con noi idee e progetti, quindi poter realizzare qualcosa che da sola Piacenza non potrebbe fare. Il noto che prospetta collaborazioni in vista di Parma, capitale della cultura 2020. Non abbiamo semplicemente fatto un'ottima valorizzazione, ma abbiamo creato un'alleanza forte con una fondazione di origine bancaria come noi, che è in un territorio vicino. Già stiamo ragionando su progetti che potremmo realizzare assieme anche in ottica di Parma 2020 come capitale della cultura. Un'alleanza tra due realtà fondamentali per il territorio. Per noi è importante non tanto l'operazione finanziaria, quanto il ristabilire sul territorio quell'alleanza tra una grande banca internazionale e un rappresentante utorevole e un'istituzione a torredo del territorio. Questo è un modello che funziona, questo è un modello che ha dato dei risultati e sono convinto che potremo fare tante cose avendo la fondazione di Piacenza ancora con noi. Un accordo che fortifica i valori del territorio. I territori oggi sono territori che abbiano affinità culturale, storica, valoriale, industriale. L'Emilia Occidentale lo è, ne ha tutte le caratteristiche, chiamiamola Food Valley, ma c'è tanto altro in più. C'è meccanica, c'è industria, c'è università, ci sono banche. Questo è un prodotto che se sviluppato può diventare assolutamente vincente.